Buongiorno ragazzi, ben riprovati, seconda settimana di febbraio, seduta cardio. Una seduta che chi si allena 4 o 5 volte ripeterà 2 volte ogni settimana, cioè in questa settimana. Allora, che cosa andremo a fare oggi? Quando andremo a spingere sull'acceleratore, andremo, oltre a quello che abbiamo fatto finora, andremo a fare anche 5 minuti consecutivi in soglia, per le volte, ma anche molti altri tipi di lavori specifici, per aumentare proprio il nostro massimo consumo d'ossigeno, per aumentare la nostra soglia, la durata più che altro del nostro ritmo in soglia. Intanto, andremo insieme al riscaldamento, 3 minuti, fondo lungo, 90 lpm. Poi faremo, 3 minuti, a fondo lento, sempre a 90 lpm. E poi faremo, su e giù, a fondo medio, alternando 30 secondi a 60 lpm, e 30 secondi a 90 lpm. Quando siamo a 60, in fuori sella, quando andiamo a 90, seduto, per 9 volte. Spero che fino adesso tutti gli allenamenti siano andati alla grande, che siete riusciti a completare ogni allenamento, ma, se così non fosse, non è un problema. Anche quella è una cosa normale, che si migliora seguendo il workout safety program. In meno di 10 secondi, e andiamo a fondo, lento, pronti? Un'altra cosa, è un'altra cosa, è un'altra cosa. Oggi circa 1.25 il lavoro Insieme Per la salute 1 o 2 Max Spingo Il tiro Mi raccomando il gesto elettrico Noi riempichiamo Mai Spingo 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 1 2 seconda serie 9 ne mancano cioè 9 in totale ne mancano 8 giù e la novanta su terza serie giù su quarta serie giù su quinta serie giù su su sesta quinta serie su 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 da ripetere due volte, composto da 230 in soglia a 90 RPM, 30 secondi, fondo lungo a 90 RPM, di nuovo 2 minuti di 30 in soglia a 90 RPM, 30 secondi, fondo lungo a 90 RPM e compuntiamo con 4 minuti fondo medio a 90 RPM e 1 minuto, fondo lungo a 90 RPM, quindi le RPM sono sempre 90, iniziamo con 2 minuti di 30 in soglia, fra poco più di 30 secondi. 10 secondi, 2, 1, via! 10 secondi, 2, 1, via! 10 secondi, 2, via! 10 secondi, 3, via! 10 secondi, 4, via! 10 secondi, 3, via! Ricordiamoci, questo è il rapporto, armo tutto. Ricordiamoci, guardiamoci, guardiamoci, guardiamoci. Ricordiamoci, guardiamoci. Ricordiamoci, guardiamoci. Ricordiamoci, guardiamoci. Ricordiamoci, guardiamoci. Guardiamoci, guardiamoci. 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 Allo! 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 Quando non go, da cor a toco piniquetio secondo me. Corri! Quattro piniquetio? Todo meno! Allo! 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 Grazie a tutti 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 Quattro minuti al meglio Grazie a tutti 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 Grazie a tutti